Ciao a tutti ragazzi da TheFaceGame, questo è Shadow Fight Praticamente voi giocherete con un'ombra, non esattamente con il personaggio in carne e ossa Ma l'ombra del personaggio Ed è un gioco un picchiaduro fatto per smartphone Il gioco consiste nel battere i vostri avversari a calci, a pugni e con le armi che utilizzate da ninja Come vedete qua su lince ci sono le guardie, io devo uccidere questo personaggio che si chiama lince ed è un boss Ci sono le sue guardie del corpo, quando faccio combatti mi verrà fuori la guardia del corpo con il quale sono ancora alla seconda Io devo ancora battere uno che si chiama mattone, perché devo ancora batterlo? Perché è semplicissimo, è più forte di me Molto più forte di me, nelle statistiche, praticamente il giocatore qui ha delle statistiche Tanto io cazzo sto stronzo Ha delle statistiche che vanno su velocità, su forza e quant'altro Se lui mi colpisce tipo anche solo una volta mi uccide Forse però adesso cazzo riesco a dargli Brutto stronzo Perché da poco ho comprato una sorta di giubbotto Che è una tonaca che aumenta la resistenza fisica e pertanto i danni inflitti dagli avversari sono inferiori Brutto stronzo Tra l'altro ci sono anche diverse combinazioni di mossa Vedete che sto stronzo ha mossa che io non ho Uuuuh Bastardo Mattone Brutto stronzo Cazzo perché non l'ho ucciso? Ogni tanto c'è anche delle azioni epiche a rallenti Cazzo abbiamo avuto la stessa idea, ma vedete? Calce rotante Cazzo Uuuuh calcio in faccia Uuuuh L'ho quasi colpito Mi sto uccidendo Mi sto uccidendo Cazzo Ora uso la mia mossa Merda Critical Mi ha dato una manganellata in faccia sto stronzo What's up? Che culo Che culo Che culo Brutto merda Ma perché gli da sto cazzo? To To Merda Cazzo To Merda Guardate cosa fa Guardate È proprio un cazzo sto qui Cazzo Se noi andate indietro così in teoria il personaggio si para Vi toglie meno energia Però Però Non si fa Guardate quanto energia mi taglia lui con un colpo È proprio uno stronto Guarda che pezzo di merda To Critical Ancora 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 Cazzo Hard Merda Cos'è? Mi ha tolto le tona Che cazzo To Uh 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 Sì Great Guardate come gira le Le cose che ho comprato Non so come si chiamano Adesso gli do un calcio rotante alla Chuck Norris Guardate Calcio rotante alla Chuck Norris Se lo va a colpire E poi What's up? Infligge con un Fendente Pazzesco Uh uh Mi ha tolto praticamente più energia di me con due colpi Vabbè To Anch'io la so fare questa Cazzo Dopo vi farò vedere i comandi delle mosse Cazzo Uh È un gioco scaricatissimo Sulla App Store Addio aiuto Non so se c'è per Android Dagli 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 Brutto stronzo Dagli a questo pezzo di merda Uh 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 Che culo Che hai avuto Che culo Ma vabbè Culo Vieni qua Vieni qua Ti do un calcio di merda Così Ti do un calcio Un calcio Nelle pa... Cazzo di mosso Che mi ha fatto? Eeeh Sta merda Ma brutto stronzo Dai Dai Merda Uh Uh Dai che è morto Dai che è morto Cazzo Ho vinto You win Ecco guardate Adesso praticamente Ho vinto Eeeh 270 monete Con le monete potete comprarvi potenziamenti Sia per le armi È possibile partecipare ad un duello ogni 4 ore Ah Questo non lo sapevo Vediamo Equipaggiamento casuale Ah Ho capito Qua praticamente il duello E un equipaggiamento casuale Se vincete Vi danno 240 dollari Euro Monete Come trattate Su questa icona Qua praticamente Dove ho imparato le mosse Vedete Adesso io attualmente Ho imparato queste due E vabbè Spazzata doppia E questo invece mi 10% di Questo invece mi dà Un quadro più resistente 10% di probabilità Di ridurre i danni Subiti dal corpo Del 50% Questi invece sono L'elenco di mosse Come vi dicevo Vedete Frecci avanti più pugno Frecci avanti più pugno pugno Eccetera eccetera Poi invece ci sono le Una sorta di Qua invece ci sono i challenge Da completare Quando vincete il challenge Ad esempio Non so Vincere un combattimento Senza subire danni Vi danno delle gemme Con le gemme Ovviamente potete Comprare Adesso vi faccio vedere Le armi In modo più rapido Senza Per forza stare a combattere Vedete Con 120 monete Lo potenzio I sai Non so niente O con 4 gemme Vedete Qua ci sono i tirapugni I coltelli Il sai Che è quello che ho io L'ho potenziato L'ho già potenziato Non ha solo 41 di danno Ne aveva Menos 6 Quindi aveva 35 Adesso potrei potenziarlo ancora Poi ci sono le corazze Vedete questa Vecchio giubbotto di pelle La prima vola tonaca Adesso invece ho il giubbotto di pelle Poi ci resterà da sbloccare La corazza da kendo Qua invece ci sono gli elmetti Che appunto riparano più la testa Elmo leggero Maschera da kendo Che non ce l'ho ancora Io non l'ho comprata Questo cappello conico Lo posso comprare solo con le gemme Vabbè Questo invece sconfiggi Lince per sbloccare le armi da distanza Sconfiggi Eremita per sbloccare Sconfiggi Tutti Eremita E Giuseppe E qua invece ci sono le gemme Potete comprare Vedete sconto 8 euro 600 gemme Cosa che non comprerò mai Sul torneo Vedete potete combattere Vedete ci sono tantissime fasi Ho completato la prima riga E ogni duello Più andate avanti nel torneo Più ovviamente si farà difficile la storia Per proseguire dovete necessariamente Potenziare le armi o le corazze Io ad esempio ferro qui E' una bestia Toh Critical Critical What up Ecco il problema è che lui Ha una forza mostruosa Nel dare i colpi Toh brutto stronzo Toh Toh Mi fai fare una brutta figura davanti E' the face gamer Toh Cato Guardate qui Cioè avete visto Quanta L'energia mi ha tolto E si para sempre Sto stronzo Tra l'altro Questo è il problema Che si para sempre Oh vaffanculo Va Vaffanculo 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 Toh Ancora 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 il fendente Ancora il fendente Mi piace il fendente Una di fatto Attenzione Dai dai Tagli un calcio in face Cazzo Mi ha saltato via Dai fai anche tu la ruota Olè Mi ha preso al volo Vaffanculo Dagli Cazzo brutta Loro Mi ha ucciso la testa Mi ha staccato la testa Con un pugno Vabbè Ha troppo danno ragazzi Ferro Vabbè Ferro Ma dimmi te che no Eeeh Sì Va bene dai Non mi faccia ucciderlo Eeeh Cosa mi ha ucciso Con un pugno Shocked Shocked Mi ha scritto You lose Cioè era troppo forte Dai ragazzi Devo assolutamente Potenziale Il personaggio Se io non vi è piaciuto Ragazzi Cliccate su mi piace Accendi tramite facebook Per ricevere 5 gemme Annulla Per chiedere le tue gemme Non me ne frega un cazzo Devo farlo Senza le gemme Ciao a tutti Nel prossimo video Ciao a tutti